Eccoci, eccoci, ben ritrovati come è stato, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Volevo parlare di voi in una situazione che diventa sempre più tosta, ingarbugliata, la ricerca dell'attaccante per il Milan o meglio, la ricerca di Zirze, che come sapete è il primo obiettivo che piace a tutti al Milan, da Moncada, Ebraimovic, piaceva moltissimo anche a Pioli. Quindi piacerà il nuovo tecnico, questo si vedrà, Joshua Zirze che inizia ad avere dei costi importanti e quindi attenzione perché lui chiede 5 milioni di euro, Yorab Chan sta sfruttando questa bagarre incredibile che si sta scatenando attorno al suo assistito per ottenere il massimo e 5 milioni di partenza sono un ingaggio importante, che il Milan non elargisce così facilmente anzi, che magari la Juventus può riconoscergli se vende Vlaovic, che più probabilmente all'estero in Premier League possono garantirgli. Quindi non è facile, direi che si sta un po' complicando anche perché il cartellino è molto elevato, il Bologna deve poi dare una buona parte, una parte considerevole al Bayern Monaco e vediamo, vediamo anche Ibra, ci sta provando personalmente anche con il ragazzo, però è complicato, è molto complicato. Diciamo che le quotazioni sono in calo e stando così le cose Milan deve vedere delle alternative. Sesco forse su tutti, ha avuto dei contatti con Gimenez del Feyenoord messicano, ha avuto dei contatti con Jonathan David del Lille che si avvicina alla scadenza e che è allenato da Fonseca, che lo conosce molto bene e che è uno dei papabili. Ecco, la notizia è che le quotazioni di Zirze e Milan stanno calando e questo non è un bel segnale. Vi dispiace o ve ne fate una ragione? Ditemelo qui sotto nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi e un abbraccio a voi tutti. Ciao!